Marzandello Gossip Time, le famiglie Cassisa Vitrano stanno aspettando un annuncio dei loro figli che stanno tornando. Tournée tutta siciliana per lo spettacolo Miserie e Nobiltà che vede come protagonista l'attrice catanese Giovanna Criscuolo. Insieme a lei scena gli attori Alessandro Idonia, Vincenzo Volo e Loredana Marino. È uno spettacolo dove ovviamente ci si diverte, non vorrei spoilerare, in realtà è uno spettacolo dove sicuramente il pubblico si divertirà molto perché non sarà passivo, non dico altro. Quindi il 7 maggio ci vediamo al Golden ma il debutto sarà il 5 maggio al Teatro De Curtis di Serra di Falco, il 6 saremo anche a Marsala e poi saremo il 13 e il 14 alla Metropolitan di Catania e chiuderemo il giorno 21 al Teatro Eschilo di Gela. Il celebre testo di Edoardo Scarpetta è stato rivisitato in chiave contemporanea da regista Alessandro Idonia. Si parte dal contemporaneo, cioè da oggi, per poi invece tornare a mettere in scena lo spettacolo di Miserie e Nobiltà che è stato reso famosissimo ovviamente da Totò e quindi andiamo su quella scia lì che è molto molto classica. L'attrice catanese è conosciuta al grande pubblico per aver lavorato per anni al fianco dell'attore Enrico Guarneri e per i suoi spettacoli da monologhista comica sarà breve interprete in altri progetti. Proprio con Vincenzo subito dopo questo avremo un altro debutto insieme, sono molto orgogliosa di questo lavoro che abbiamo fatto insieme, del mio nuovo testo che si intitola Una notte da Amsterdam e in scena saremo io e lui, uno spettacolo molto divertente ma che tocca anche due tematiche molto molto dedicate. Insomma c'è tanta carne al fuoco.